Possibilità di contropiede per il Gallo che si lancia in velocità, si autoassiste con questo pallone, poi con il destro scagliato alle spalle di Bizarri per il gol del 2-0, torna al gol a Belotti dopo quasi due mesi, quinto in campionato e 2-0 Toro con Belotti. Grande azione di contropiede di Belotti che ha circunnavigato Samir in contropiede e con il destro l'ha messa nell'angolo lontano, Bizarri forse ha toccato ma non è riuscito a trattenere e arriva il gol del 2-0 al minuto 66, ottavo stagionale per Belotti se aggiungiamo i tre in Coppa Italia. Andrea!